Poi un ruolo decisivo. State pronti! Andiamo! Rischi la vita per un mondo migliore. Ma certe cose non te le aspetti davvero. La vigilanza è in anticipo. Sei con me! Oggi il reparto combattente d'élite ha tradito la nostra nazione. Su mio ordine, i G.I. Joe sono stati totalmente eliminati. Sono tutti morti. Era una trappola fin dall'inizio. Rimaniamo solo noi. Muoviamoci. Il mondo non si salva da solo. Il mondo non si salva da solo. Dobbiamo pensare di non poterci fidare di nessuno. Però c'è un uomo. Stai bene? Sì, tu stai bene. Ho il colesterolo alto.